Sul primo punto, le finanze pubbliche, come sapete abbiamo avuto discussioni difficili con le autorità italiane l'anno scorso, questo ha portato a una riduzione del deficit di bilancio dal 2,4 al 2% del PIL. E' vero che ci basavamo allora su uno scenario macroeconomico più ottimista, ci eravamo basati sulle nostre previsioni che dicevano 1,3% di crescita per l'Italia, ora è stato corretto all'1% e anzi le previsioni invernali ci parlano di uno 0,2% per l'Italia. Quindi stagnazione praticamente e questo ha ovviamente un impatto anche sulle finanze pubbliche. Ora che effetto esatto avrà lo vedremo una volta che passeremo alle decisioni di bilancio riguardanti gli stati membri e questo sarà anche parte del nostro pacchetto primaverile. Nel pacchetto invernale non prendiamo decisioni in materia di bilancio con l'eccezione della Slovenia perché siamo in una procedura speciale e così potremo tornare alla questione sulla performance di bilancio dell'Italia, sulla base di previsioni primaverile e sulla base dei risultati relativi al 2018 e così determineremo quali misure saranno ancora necessarie e quali saranno i piani di bilancio a medio termine. Per quanto riguarda la procedura per gli squilibri macroeconomici, proprio a causa di problemi che abbiamo attualmente identificato relativamente all'attuazione delle riforme, il che si riflette anche nel nostro documento, ebbene anche dati progressi su alcune delle riforme, noi continueremo a monitorare molto da vicino il processo di riforme, abbiamo una cosiddetta clausola di rendezvous nel nostro documento nel senso che torneremo sulla questione nel semestre primaverile per il relativo pacchetto e in particolare il programma di riforme nazionale che dovrà essere presentato entro metà aprile.